E' nato a Villa Piana, nella zona ionica cosentina, l'Aldiana Club Calabria Resort 5 Stelle, realizzato grazie ad un investimento complessivo di 49 milioni di euro. La struttura è frutto anche dei 33,7 milioni di finanziamento del contratto di sviluppo tra Invitalia e T&D Exclusive, che prevede anche la creazione, entro il 2020, di 100 nuovi posti di lavoro. Il resort, pensato soprattutto per la clientela nord-europea, è gestito dal management di Aldiana, società turistica tedesca, controllata dal Main Investments e partecipata del gruppo Thomas Cook Neckermann Raisen. La struttura sorge su un'area di 127 mila metri quadri ed è dotata di 324 tra suite e camere deluxe standard, con una capacità di 900 posti letto. Questo investimento, afferma Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, conferma l'attenzione che rivolgiamo allo sviluppo intelligente dell'offerta turistica, soprattutto al sud, dove le potenzialità di crescita sono molto elevate.